Oggi parliamo del pipistello della frutta e si chiama in inglese fruit pet. Il fruit pet abita su un albero e poi a me mi piace il fruit pet. E poi è proprio bello che esce solo di notte perché gli piace, invece di giorno dorme tutto il giorno. E che mangia la frutta di notte e trova i zanzari, invece il fruit pet che invece dorme il psydeon. Se mi dico cosa è il psydeon significa che è in testa in giù, in testa in giù e in piedi in su. E i pipistelli non sono pericolosi. No, ne fa male alle persone i pipistelli perché invece i pipistelli mangiano solo le zanzare che si pungono. E non dobbiamo avere paura dei pipistelli. Gli strati, i pipistelli vogliono sopra casa mia, di notte. E quando invece vengono a mangiare la frutta a casa mia sento che fanno flap, 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 flap. Con gli oli grandi gravi. Invece io non li vedo perché è buio e loro sono neri. I pipistelli sono un po' ciechi e non vedono bene. Perdon, mi sposti di rade, perché il fuorbol fulano bene, come con la radella.